ben ritrovati a tutti gli amici telespettatori a tenerci in compagnia in questo nuovo collegamento il presidente della fondazione fioravanti pulito davide pulito presidente ben ritrovato grazie raffaele ben trovato a te e tutti quelli che ci ascoltano allora niente vogliamo subito partire chiederle anche per fare una panoramica me e tutti quanti amici da casa come e perché nasce questa fondazione e dobbiamo fare un salto indietro nel tempo nacque prima è nata prima l'associazione intitolata a mio padre nel 2006 dopo due interventi alcuni che ho subito poi si chiama la fondazione nata nel 2016 abbiamo trasformato tutti in in fondazione e sempre intitolato a mio padre purtroppo nel 2019 venuto a mancare mio fratello all'improvviso con un infarto fulminante 47 anni e la fondazione è stata estesa anche al nome di mio fratello che si chiamava fiorevante fiorello lo chiamavano a santa paria e si chiamava come mio padre perché mio padre morì nel 72 a maggio e mio fratello nacque a luglio quindi la fondazione ora è intitolata la memoria di mio padre e mio fratello che sono alle mie spalle quindi diciamo poi nella fondazione è nata la biblioteca del calcio il museo intitolata da andrea fortunato che come si vede nel nel riquadro alle mie spalle e e abbiamo iniziato questo grande percorso culturale sportivo sociale per la salute e ci riteniamo soddisfatti di questo percorso alla data di oggi anche perché a santo mariti che sarà una bellissima realtà che tu hai visitato raffaele è un museo del calcio e una biblioteca dove c'è la storia del calcio e quindi noi vogliamo continuare su questa strada quali sono ovviamente la situazione attuale eh chiaramente un po rallenta la situazione attuale inerente a povi diciamo che rallenta sta rallentando un po chiaramente sarà entrando tutto ma quei sono i progetti in cantiere per il futuro e ci sono i progetti si si i progetti sono tanti purtroppo per il covid è tutto fermo il museo è chiuso però l'attività della della fondazione va avanti ci sono tanti progetti c'è un libro catalogo che deve uscire quando sarà tutto quando sarà tutto risolto mi auguro al più presto dove eh per il nostro bellissimo comune sono stati fotografati i cimeli del museo Punta di Cosa Punta di Tresino, Le Gatti, Castellabate eh una cosa bellissima che è stato realizzato con l'amico Dario Di Sessa che eh per due tre mesi per tutta l'estate eh abbiamo fotografato tutti i cimeli del museo questo è uno dei progetti che avevamo in cantiere prima del lockdown poi un altro progetto è un un accredito che è stato fatto dalla fondazione presse varie università affinché eh gli studenti che devono laurearsi in tutte le facoltà non solo inerenti allo sport non possono accedere presse il museo e la biblioteca del calcio e svolgere il tirocinio eh di centoventi ore quindi c'è questo progetto con le università poi abbiamo un altro progetto eh da svolgere appena eh si può fare la fondazione Polito ha omaggiato Procida come capitale della cultura duemila e ventidue e questo è un è un bellissimo progetto che eh con i padrucini del comune di Castellabate di Procida e stiamo attendendo quello del ministero eh della cultura eh sono stati realizzati tre ritratti eh dall'artista Alfonso Mangone che ritrae Santa Maria e Procida come Santa Maria io ho scelto personalmente le gatte e Procida il porto la prodo la riva a Procida e io al centro con una frase che Santa Maria e Procida sono uniti nella bellezza e nella cultura che saranno consegnati al sindaco di Castellabate al sindaco di Procida e al ministro Franceschini quindi faremo una videoconferenza una videoconferenza con il sindaco di Procida e ci organizzeremo anche appena il ministero ci dà parere favorevole e comunque sarà una bella cosa anche perché possiamo dire che Procida ce l'abbiamo di fronte Santa Maria vediamo Capri quindi se sentiamo una mano non la tocchiamo e quindi sono due paesi bellissimi e io come come cittadino eh della provincia di Salerno mi sento onorato veramente che sia stato scelto quest'anno per l'anno prossimo Procida come capitale della cultura è stata una bellissima eh una bellissima cosa veramente molto bella voglio ricordare tuo nonno il grande Raffaele Pisanno un grandissimo uomo e un grandissimo calciatore grazie veramente lo ricordo con affetto e amicizia grande Lello Pisanno grazie mille Davide grazie mille ancora un abbraccio grazie mille